Davide, da quanto vivi questa situazione e raccontaci in quale situazione vivi? Vivo in una situazione di degrado, è un anno e tre mesi circa che non posso accedere dietro al vecchio lavatoio dove c'ho erba alta, insetti, topi, non so a chi rivolgermi, vado in comune, il comune mi manda la reggia, la reggia mi manda in comune, è un anno che faccio ping pong, non so più cosa fare. Tu hai comprato una casa? Ho comprato una casa in via Trucchi, circa un anno e tre mesi circa. Ed è confidante praticamente con il vecchio lavatoio? Con il vecchio lavatoio, in via Saccarelli, è interno, è un'entrata dietro, c'è il vecchio lavatoio dove c'è una catena con lucchetto dove non posso accedere e c'è un degrado, come voi vedete anche dalle foto. Come faccio? Come si fa a vivere? Questa è casa mia, guarda qui cosa c'è. C'è veramente uno schifo, non so più a chi rivolgimi. A chi ti sei rivolto? Mi sono rivolto, ho avuto un colloquio con Roberto Falcone, il sindaco, dove mi ha detto a settembre, questo me l'ha detto mesi fa indietro, che a settembre provvedevano alla polizia e tutto qua. Poi vado di nuovo e di nuovo la chiave è stata mandata alla reggia, la reggia mi manda al comune, non so più cosa fare. In casa vivi con? Con la mia compagna e i miei due figli. Due figli che ogni tanto si ritrovano in casa? In casa, insetti, zanzale che sembrano pipistrelli, topi che ho visto topi uscire da lì, è invivibile comunque. Cosa chiedi? Chiedo che intervengano a ricurificare la zona dietro là, a pulire, a tenere almeno pulito. Gli avevo chiesto pure se mi erano davanti a me, li tenevo pulito io, gratis. Ma questo non è stato possibile, che diceva che non posso accedere, perché qualora mi facevo male, non si prendevo la responsabilità. E allora che aspetto io, prima che mi vengano a pulire? Altri anni? No, non è possibile. Il lavatoio di Venaria sta diventando un problema per quanto riguarda l'ubicazione della casa di Davide Iacobono, che è venuto a protestare davanti al comune. Sì, ho visto oggi la pubblicazione su una testata locale di questa protesta davanti al comune con un cartello. A me sono veramente sconcertato perché continuo a parlare con le persone, ma spesso non vengono recepiti i messaggi, sia io che il mio staff. Al signor Iacobono è stato detto che nell'accordo di programma di quando è stata costituita la reggia, quindi tutto il consorzio, con il centro per restauro, il lavatoio è stato dato in gestione direttamente al CCR, appunto al centro di restauro. Non è nelle disponibilità attuali del comune di Venaria, tant'è che abbiamo una delibera in sospeso che doveva passare prima delle ferie nel Consiglio Comunale di luglio ed è stata rimandata al successivo in attesa di valutarne lo stato di conservazione del lavatoio stesso, affinché il comune ne rientri in possesso previa attività di pulizia e di messi in ordine da parte del CCR che l'ha avuta appunto in gestione fino ad oggi. Per cui è stato detto anche al signor Iacoboni nella giornata stessa di oggi che saremmo entrati in contatto pianificando un intervento con il CCR e saremmo andati in sopraluogo con il Consiglio Comunale, chi disponibile dei consiglieri, per verificare lo stato e l'attività di pulizia e quant'altro, in data che è stata fissata oggi stesso e per cui sarebbe stato informato successivamente. Non capisco veramente che cosa ci sia di poco chiaro in questo messaggio. Quindi tra qualche giorno il signor Iacoboni potrebbe avere una risposta anche per quanto riguarda i servizi del centro conservazione e del restauro? Quindi ad oggi il lavatoio non è nella disponibilità del comune, che è il dato di fatto principale da cui si scatenano poi tutti gli altri discorsi. Il CCR è stato sensibilizzato, il suo direttore è stato sensibilizzato affinché pulisse e intervenisse sul lavatoio, cosa che farà perché ci è stata rassicurata, abbiamo fissato appunto l'incontro, andremo a verificare dopodiché il comune rientrerà in possesso. Un incontro che era stato prefissato per la fine di settembre? Un incontro che è stato prefissato nel mese di settembre. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS